Oggi è una giornata strana perché siamo di fronte alla più grande tragedia avvenuta nel Regno Unito da quando Al Qaeda piazzò le famose bombe nel 2005 nella metropolitana di Londra, ve ne ricorderete, uccidendo 52 persone e ferendone più di 700, ma c'è un ma. Stavolta, lo saprete, ad essere colpita è stata invece Manchester, un'altra famosa città britannica. Un attentatore suicida che, mentre il registro non è stato identificato, ma l'Isis avrebbe rivendicato il tutto, si è fatto esplodere durante un concerto di Ariana Grande, uccidendo 22 persone per lo più giovanissimi, perché è un concerto di Ariana Grande e ferendone altri 55, e il bilancio potrebbe peggiorare. Ma, dicevo, nonostante la gravità dell'accaduto, tanti sottolineano come non ci sia così tanto trasporto come per ad esempio gli eventi del Bataclan, e questo, secondo alcuni, è un problema. Secondo altri, è un problema, ma. Comunque parliamo di desensibilizzazione al terrorismo. Tenendo comunque conto che non è proprio necessario che ogni singola persona si butti sulla sua pagina Facebook a fare le cronache minuto per minuto di quello che sente dire ai cronista al telegiornale. Grazie per il vostro servizio, soldati, grazie mille. Ma le uniche persone che non hanno la TV sono quelle che mentivano per non pagare il canone, e comunque adesso ce l'hanno anche loro, visto che improvvisamente il canone si paga in bolletta. misteri, ma in tanti si sono affrettati a sottolineare, anche sui social, un certo calo di interesse, mettendo in guardia dalla normalizzazione del terrorismo, dell'abitudine al fatto che queste cose succedano. E se una volta in tanti trovavano naturale rilevare come succede tra i tavolini dei locali di Parigi, una sparatoria o un'esplosione potessero avvenire anche qui, in contesti tipicamente italiani, come magari su un bar, una pizzeria o una tripla fila di macchine parcheggiate su una pista ciclabile, ora sembra invece prevalere una sorta di rassegnazione. Non abbiamo dati in realtà per verificare questa cosa, ma credo possa tranquillamente essere sia vera che sia in un certo punto normale. Come esseri umani non possiamo vivere in un perenne stato di stupore o di incredulità o terrore, è assurdo anche soltanto pensarlo, e finiamo quindi per abituarci a praticamente qualsiasi cosa, a considerarla la nuova normalità. In tal senso anche il terrorismo forse non scuote più come un tempo, o magari spaventa allo stesso modo, ma il tutto non arriva più così inaspettatamente. Una sorta di normalizzazione della violenza, può essere. Vorrei guardarla anche da un altro punto di vista, però. L'attentato terroristico, lo sappiamo tutti quanti, è un tipo di azione che ha uno scopo preciso, che è quello di terrorizzare, appunto di creare panico, scompiglio e possibilmente ottenere reazioni scomposte da parte delle persone e soprattutto da parte dei loro leader. È la ragione per la quale colpisci dove fa più male. Un concerto pieno di minorenni, ad esempio, non deve stupire, in modo da terrorizzare i genitori, atterrirli e renderli paranoici. Quando penso a un attentato terroristico, non lo immagino mai come a un attacco diretto, come un pugno. È più come buttare della sabbia negli occhi del tuo avversario, che non hai alcun modo di battere in un duello alla pari, sperando quindi che si nervosisca, si sbilanci, apra la guardia o faccia qualcosa di stupido. In tal senso, l'idea che la dimensione del terrorismo esista è, nonostante l'impegno bellico e culturale, non la si possa cancellare dall'oggi al domani, semplicemente arrabbiandosi, come dopo il Bataclan o dopo Charlie Hebdo, vi ricordate? Quando l'ex presidente francese Holland dichiarò guerra al terrorismo, ottenendo il nulla, può non essere completamente una cosa negativa? Me lo domando perché l'approccio razionale al problema terrorismo mi sembra ovviamente una risposta migliore a, che ne so, gli Stati Uniti che dopo l'11 settembre impazziscono e fanno il casino che hanno fatto. E la razionalità nasce in genere da stati di calma, non di panico. È la ragione per la quale gli stessi britannici invitarono durante la guerra i cittadini a stare calmi e continuare le loro attività con il famoso poster. È forse la stessa per la quale in tanti in queste ore continuano a ripetere che non smetteranno di andare a concerti, ascoltare musica, fare cose normali e vivere la vita. A prescindere da tutto. Se da una parte c'è chi critica, quindi, la mancanza di trasporto di alcuni, dall'altra c'è però chi critica il troppo trasporto. la famosa storia che vuole le fiaccolate e i gessetti per terra e le bandiere arcobaleno e le lacrime e le veglie e le esternazioni di solidarietà e i mi dispiace e il cambio di immagini di profilo. Qualsiasi cosa entri nello spettro del comportamento umano solidale e normale come gesti di debolezza che non servono a niente. E' una delle cose assolutamente originali, ripetute a pappagallo da migliaia e migliaia di persone. Ecco qui, ora faranno le fiaccolate e poi non cambierà niente. E poi puntuali ricominciano i mantra sulla necessità di fermezza, di risolutezza, di forza, con danne varie, siamo in guerra e appelli alla famosa volontà di risolvergli davvero i problemi perché manifestazioni e buonismo non li risolvono. Sul fatto che sia necessario essere forti e risoluti, peraltro, io non ho dubbi. Politicamente non disprezzo a prescindere l'interventismo militare, ad esempio, e tanti di voi lo sanno e mi criticano per questo. Ma mettendo da parte le differenze ideologiche, visto che entro certi limiti ritengo invece anche importanti le estremazioni di empatia e la solidarietà che è poi quella che manda avanti i popoli quando succedono le peggiori sciagure. Non di certo il criticare i lavori da bordo campo come adolescenti che sparlano della festa perché nessuno vuole ballare con loro e presta loro attenzione. Quali sono queste azioni ferme, risolute, nette e di condanna che risolveranno il problema al posto di gessetti colorati e razionalità che invece nessuno intraprende? Ho capito che si ritiene che sia in corso un attacco o una guerra di civiltà. Benissimo. Tutti giovani Bush con la polvere delle torri giamelle ancora in aria. Grandioso. Ma chi dobbiamo attaccare? Il kamikaze pare fosse vicino all'Isis, che già stiamo combattendo tra mille problemi e sconfiggendo sul campo. E la quasi totalità dei terroristi sono europei, non siriani o iracheni o afghani. Nati e cresciuti qui. È un fatto. Quindi, no ai gessetti. Cosa dobbiamo fare che i servizi segreti di tutto il mondo non stanno facendo? Cosa fareste meglio di loro? Dobbiamo, non so, bombardare qualcuno? Atomizziamo il Belgio? Attacchiamo la Francia? Non lo so, perché a me sembra che chi piagnucola di forza e risolutezza e, non lo so, tristezza dei gessetti colorati non lo sa cosa dovremmo fare, ma ripete soltanto slogan e critica civili che fanno cose da civili. Mostrano solidarietà, stringono i denti e vanno avanti. Peraltro, scusate se lo faccio notare, ma allo stato attuale delle cose, seduti nelle posizioni di potere, non abbiamo mica i buonisti. I cosiddetti buonisti non controllano un accidente, in realtà. Putin guida la Russia da 16 anni e in Russia vengono gli attentati. I conservatori guidano il Regno Unito e sono due anni in codice rosso per possibili attacchi. Donald Trump è alla guida della nazione più potente e militarizzata del mondo, da oltre 100 giorni. Politico che ha peraltro fatto della lotta al terrorismo e dell'essere uomo inflessibile, è forte e intollerante il suo punto di forza in campagna elettorale, vi ricordate? Sconfiggeremo l'Isis, basta terrorismo, legge e ordine. Eppure il terrorismo internazionale continua a esistere. O è troppo buonista anche lui? Chi ci mettiamo? Ci mettiamo Voldemort? Skeletor? Non lo so. Capiamoci, sono il primo a trovare ridicole alcune cose. Tipo, sta roba qua non la si può vedere, dai. Il fiocchetto con le orecchie, come la maschera di Ariana Grande. Aaaah! Che senso ha sta roba? È veramente sbagliata. Si ha l'idea di brandizzare un attentato terroristico conferendogli ancora più importanza agli occhi dei terroristi. Guardate, vi abbiamo pure fatto il logo che farlo mettendogli sopra un'immagine che ricordi Ariana Grande stessa. Quasi fosse colpa sua. Che porcheria è? Stiamo scherzando. Le orecchie da coniglio sul fiocchetto nero. Se fossi lei sarei incazzato nero. Si poteva, senz'altro, scegliere un modo più appropriato, dai. Perché, altrimenti, diventa tutto cultura pop. Anche gli attentati terroristici, che roba è? Bomba al concerto di Lady Gaga, bang! Pazzo con auto al concerto di Snoop Dogg, eccoci pronti. Qualcuno spara lo stadio durante la Champions League. Che problema c'è? Non si è mai di cattivo gusto quando si hanno buone intenzioni, giusto? Quindi, quella roba è una porcheria perfettamente comprensibile. Non ho alcuna intenzione di metterla sui miei social, ma sorvolando su quello. Per la gente, perché questo siamo non generali dell'esercito, non leader europei, non contractor sul cambio di battaglia o soldati con il fucile tra le braccia e un nemico a 100 metri, siamo civili da casa propria, tra il mostrarsi colpiti e sensibili nei confronti di altre persone affette e delle loro famiglie, e inclini a relativizzare e comprendere una situazione che non è di facile soluzione, o la sarebbe già risolta, e lo stare seduti con le braccia incrociate a lamentarsi perché sono tutti buonisti tranne loro, anche Trump evidentemente, appena tornato da un viaggio in Arabia Saudita peraltro, dove si è improvvisamente reso conto che c'è un mondo là fuori, oltre gli slogan, nel quale la maggior parte delle vittime del terrorismo sono altri musulmani che, come le ragazzine colpite ieri, vivono le loro vite, pacificamente, mangiando, dormendo e facendosi venire l'ansia per cose stupide come me e come te. Tra queste due cose, una è comunque un'azione che può avere delle conseguenze positive o non averne, dipende, ma l'altra è soltanto pianucolare, pensando di trasmettere l'idea di essere forti e irrisoluti, senza però aggiungere niente sul tavolo.